Una puntata onorevolissima oggi quella di Talk Sicilia perché con noi c'è ospite Marco Intravaia. Buonasera direttore, buonasera a tutti voi. Di freschissima elezione al Parlamento regionale, peraltro vorrei ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che in una delle scorse puntate di Talk Sicilia Marco usava un tono confidenziale, ma chi vede la scorsa puntata si rende racconto che il tono confidenziale già c'era prima. Marco Intravaia ci aveva promesso che una volta eletto, appena le acque si sarebbero calmate, sarebbe tornato con noi a raccontarci un po' questa esperienza di deputato e quindi Marco Intravaia è un deputato che rispetta la parola che dà. Questo comunque per la Sicilia è un grandissimo risultato. Benvenuto Marco, benvenuto con noi. Grazie a te e grazie a tutti voi. E allora, insomma la legislatura appena iniziata, lasciamo perdere il trambusto delle vicende, delle squille politiche che probabilmente appassionano poco chi ci segue e vogliono conoscere fatti concreti, personaggi concreti, persone vere come lui e Marco. Marco, emozione da... cioè una cosa è la campagna elettorale che uno si lancia con l'ambizione di raggiungere quello scranno a strada ercole, ma una volta raggiunto l'emozione, la responsabilità... è tanta... si avverte tanta emozione così come tanta responsabilità. Io ho già vissuto come sai quei contesti non soltanto da segretario particolare del Presidente della Regione, ma anche dapprima avendo lavorato presso la Commissione Antimafia dell'Assemblea Regione Siciliana. Tu sei stato in Commissione Antimafia come segretario per otto anni, perché ho collaborato sia con... quindi facciamo un po' di conti, io ho otto anni in Commissione Antimafia, cinque anni, quasi cinque, perché poi il mandato si è concluso un paio di mesi prima, quindi in realtà sei un... un veterano! un veterano! Se così gioia così veterano! Però diciamo è un fatto positivo che comunque si arriva a fare il legislatore avendo già... ma io penso che questo sia importante e oserei dire quasi necessario. La gavetta va fatta e va fatta anche in politica, non puoi pensare di arrivare a fare il legislatore regionale o nazionale senza avere fatto dapprima il Consiglio dei Circoscrizioni, il Consigliere Comunale, l'Assessore Comunale o comunque l'Amministratore... Tu hai fatto tutto, tutta la tua tappa della carriera è fatta scalino per scalino... Ma io ho iniziato il mio impegno politico da responsabile del circolo dell'allora mio partito nel mio comune che è in Monreale e poi ho fatto il Consigliere Comunale, l'Assessore Comunale, ho fatto il Consigliere... Asziano la Mosca che ci sta dando fastidio, colpiamo la Mosca, via... Il Consigliere d'opposizione, il Presidente del Consiglio Comunale... Era una spia comunista quella sicuramente... Ma noi siamo abituati a questi infiltrati, non ci spaventiamo anzi... E quindi ti dicevo, ho questa esperienza politica legata al territorio che mi ha consentito e mi consente oggi di avere una visione molto più completa... Tu adesso da deputato, la legislatura è appena iniziata quindi è impossibile... Non c'è stata ancora neanche una seduta per parlare di disegni di legge, ancora siamo nelle fasi preliminari dove si nominano gli organismi che faranno camminare il Parlamento... Ma tu sei stato designato già in due commissioni particolari, quali sono? Sì, la settimana scorsa abbiamo composto le commissioni parlamentari... Ho avuto la fortuna e il privilegio di essere nominato in due delle commissioni che ritengo più importanti insieme all'Assemblea Regione Siciliana... Sono la prima commissione che è quella che si occupa degli affari istituzionali... Dalla quale passano tutte le nomine del Governo della Regione... Si occupa delle riforme e di riforme ne dovremmo fare tante nel corso di questa legislatura... E poi la seconda commissione che è la commissione bilancio che tutti sanno essere il cuore pulsante... Il cuore perché poi comunque tutte le leggi, prima di passerà l'aula, passano al... Tutto passa dalla seconda commissione... Beh è un bel carico di responsabilità ti sei preso su tutte le spalle... Eh assolutamente, ne sono consapevole però sono davvero contento... Pertanto sono giorni delicati per il bilancio della Regione perché siamo in attesa per chi ci ascolta pure... Della parifica... Della parifica, no? Esatto... Ma che cosa avete trovato, come dire, il clima che avete trovato più che altro? Senza entrare nelle polemiche, ci sono debiti, non ci sono debiti... C'è molto da fare, da riformare, no? Sì, c'è tanto ancora da fare ma non dimentichiamo che molto è stato già fatto... Anche da un punto di vista del bilancio e dei conti della Regione che il Governo precedente ha provato a mettere in ordine... Lavoro che ci è stato riconosciuto anche mesi fa dalle agenzie di rating che hanno riconosciuto appunto il lavoro positivo e migliorativo... Però tanto altro c'è ancora da fare... Però una domanda... Qualche giorno fa il Presidente Schifani accompagnato dall'assessore al bilancio hanno incontrato il Ministro dell'Economia a Giorgetti proprio per pianificare una serie di interventi e avviare una collaborazione... Una domanda importante perché parlando in tema di bilancio secondo me non possiamo rifuggere anche se ancora ovviamente i lavori della Commissione non sono iniziati... Una cosa importante della scorsa legislatura e penso che ci sia stato proprio l'imprinting proprio del Presidente Musumeci tu eri al suo fianco... C'è stata la richiesta al Governo nazionale inserita poi in finanziaria nazionale del riconoscimento del principio di insularità... Sì... Continueremo su questa linea e magari spieghiamo a chi si ascolta che significa riconoscere i danni e l'insularità alla Sicilia... Credo che i passi che siano stati compiuti dal Governo Musumeci su questo argomento siano davvero importanti... Se ne parlava da tanto tempo ma non si era mai riusciti ad andare oltre e a conquistare terreno su questo fronte... Anche da questo punto di vista debbono essere portate avanti una serie di iniziative che avranno dei benefici importanti per i siciliani... Perché noi siamo un'isola ma che in realtà non gode dei benefici che dovremmo avere e che sono riconosciuti già da tanto tempo alla Sardegna... In pratica il concetto di insularità, il danno che ti vuole esercire lo Stato è che tu hai delle difficoltà... Per esempio il produttore di agrumi, di bagheria piuttosto che di carlentini per non dare vantaggio a nessuno ha un costo maggiore rispetto ai produttori del continente... Esattamente e quindi lo Stato deve andare incontro a queste esigenze, a queste difficoltà... Quanto male è stato stimato questa eventuale compensazione e quanto è super giusto si hanno idea delle cifre che dovrebbero... Ma quelle sono ancora in fase di definizione, c'è una prima idea però bisogna entrare nel dettaglio... Però il costo dell'insularità per la Sicilia è molto alto, è stato stimato in 6 miliardi se non sbaglio... All'incirca, 6 miliardi allora fu un lavoro fatto dall'assessore Armao e dai suoi uffici... Ma 6 miliardi l'anno costa? L'anno sì... Ma il bilancio della Regione è super giusto quanto si attesta, cioè se ci manca una fetta di 6 miliardi... Com'è possibile continuare a essere sostenibili se abbiamo questo? Ma è chiaro che non sono soltanto fondi che deve stanziare la Regione Siciliana, sono soldi che la Regione deve ricevere, in questo momento non ci sono di fatto... Poi passiamo un attimo al... tu l'hai citato come tuo primo impegno, quello della Commissione Affari Istituzionali, sarai un componente della Commissione Affari Istituzionali... Quali sono secondo te le priorità per questa legislatura, cioè quali sono le riforme sulle quali tu spenderesti la tua carica di deputato con impegno, con passione e con trasporto? Ma le riforme da portare avanti sono tante. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, il governo precedente, il governo Musumeci ha provato a fare molto da questo punto di vista. Purtroppo non sempre ha trovato poi la collaborazione del Parlamento, però se dovessi dirti quali sono le riforme importanti sulle quali la prima Commissione dovrà impegnarsi, mi viene in mente la riforma sulle province, della quale molti parlano già in questi giorni, non soltanto in Regione ma anche al Parlamento Nazionale e quindi con la riforma della legge del Rio. Enti che come sai sono davvero importanti per il nostro territorio. E' possibile che in questo paese, in Italia, poi in Sicilia in particolar modo, si passa dal definire un ente inutile, uno spreco assoluto e poi rendersi conto ex post dopo dieci anni, quasi dieci anni sono passati. Ma perché in realtà le province non sono mai state un ente inutile, sono state abolite. Ma una campagna giornalistica e politica devastante. Assolutamente devastante, sono state abolite dal governo Crocetta soltanto perché ha ritenuto di andare dietro alla demagogia, e al populismo dell'allora Movimento 5 Stelle e quindi decise, come ricorderai in diretta televisiva, di comunicare l'abolizione delle province senza pensare poi alle conseguenze che sono state devastanti per il nostro territorio. Vogliamo evitare un po' le conseguenze dell'abolizione delle province sul territorio perché io alcune me le ricordo. La provincia... D'altonde anche chi ci segue quotidianamente ha, come dire, la percezione... Abbiamo parlato delle strade provinciali? La provincia che oggi assume il nome di città metropolitana nel caso di Palermo ha tante competenze. Quelle più importanti sono quelle legate alla gestione della viabilità, della viabilità provinciale. In Sicilia è pari a un 70% della viabilità regionale. Ha competenze sulla gestione dei istituti scolastici superiori e anche su quello del trasporto dei disabili. Queste tre competenze, quando il governo Crocetta decise di cancellare le province... Non le ha affidate a nessuno. Non transitarono a nessun altro ente. E su tutti i dipendenti che si hanno fatto. In capo a quegli enti, che di fatto sono degli enti fantasma. Perché esistono tutt'oggi. Hanno i propri dipendenti, i quali hanno continuato a pagare lo stipendio. Dopodiché non esiste più la guida politica. Perché che cose che hanno cancellato allora? Il Presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale. La Regione spesso si è sostituita, considerato le difficoltà economico-finanziare di questi enti, si è sostituita dando loro delle risorse finanziarie straordinarie per provare a dare risposte ai territori. Sia rispetto alla emergenza viabilità, perché quelle strade oggi sono totalmente abbandonate e l'allora il Presidente del Governo regionale... Ci sono posti per esempio delle Amadonieti, faccio esempi dove non esistono più le strade, sono collassate. Sì, ma sono delle vere e proprie trazzere oggi divenute. Io ricordo che allora stanziamo più di 350 milioni di euro per mettere in sicurezza... Allora intendi quando eri al fianco del Presidente Musumeci. Esattamente, il Presidente Musumeci, che come sai, avendo fatto per 10 anni il Presidente della provincia di Catania, aveva anche una sensibilità e una conoscenza diversa sull'argomento. Stanziamo 350 milioni di euro per mettere in sicurezza quelle messe peggio. Ma è chiaro che ci vogliono almeno il quadruplo di quelle risorse. Questo però, vedi, in questo momento viene fuori, come dire, la tua esperienza progressa, no? E questo un po' dovrebbe confortare chi ci ascolta nel sapere che c'è un deputato che comunque arriva a sedersi lì, a parlare di leggi, a proporre leggi, essendo stato dall'altra parte della barricata. Perché la scorsa legislatura, diciamo, ha subito questa contraddizione perenne tra Parlamento e Governo, no? Non c'è mai stato dialogo, ci sono stati momenti di asprissima tensione, addirittura all'interno della stessa maggioranza che si è spappolata e si è andata in mille pezzi, è andata in frantumi, diciamo, appartiene mai al passato, è storia. Ma tu cosa pensi di poter portare alla tua maggioranza, oggi in Parlamento, forte dell'esperienza che hai compiuto a Palazzo d'Orleans, non soltanto sul piano dei contributi amministrativi e dei problemi che conosci, perché al fianco del Presidente della Regione si vede un po' di tutto, cioè l'intero spettro, lo scheletro della macchina amministrativa, ma anche come contributo di pacificazione, cioè conoscendo i problemi che ci sono da un lato e dall'altro delle istituzioni siciliane, che contributo dal punto di vista emotivo e sentimentale riesci a dare per fare in modo che questi due palazzi dialoghi o piuttosto che litigare? Il fatto di essere stato, come dici tu, dall'altra parte della barricata e quindi di avere vissuto l'esperienza a Palazzo d'Orleans, alla Presidenza e quindi quello di aver avuto la visione del Governo, mi aiuterà ad avere certamente una visione molto più completa e anche a evitare spesso di aprire polemiche inutili o di sparare sulla Croce Rossa. Chi governa oggi affronta davvero difficoltà quotidiane, i problemi sono tanti, però ecco, sia il Governo precedente che l'attuale ha messo in campo le migliori risorse e ha tutta la buona volontà di questo mondo per affrontare questi problemi, in assoluta collaborazione con l'Assemblea regionale siciliana che gioca un ruolo importante, che deve essere non soltanto propositivo, ma deve anche garantire pieno sostegno al Governo che ha già sostenuto in campagna elettorale. Ecco, c'è bisogno di una collaborazione continua e quotidiana, soltanto così noi riusciremo a dare risposte serie ai cittadini e al territorio che attendono da tanto tempo. Siamo di fronte a una delle crisi economiche più gravi di sempre. Che risposte può dare la Regione come macchina amministrativa a chi è in grandi difficoltà? Capisco che questa è una competenza che più è sulle spalle del Governo nazionale, però per la prima volta da tanti anni registriamo una sintonia fra i vari livelli di amministrazione, cioè Palermo, Roma, sia come Comune che come Regione, e con Roma parlano la stessa lingua politica. Questa è una grande fortuna ed è un'occasione, un'opportunità che bisogna assolutamente cogliere e non perdere. Questa collaborazione inserita in questo unico asse politico fra Stato, Regione e anche Comune di Palermo deve senz'altro portare dei benefici al territorio e ai cittadini. rispetto a tante tipologie di intervento. Abbiamo detto che i cittadini stanno vivendo davvero una crisi economica mai vista e ancora da noi per fortuna l'inverno non è arrivato. E probabilmente non arriva in maniera così grave come arriva in paesi. Sì, però è anche vero che tra qualche settimana ogni famiglia inizierà ad accendere i riscaldamenti. Sarà come rischia tutto i Mac buongiorno. Esattamente, quindi mentre oggi il colpo rispetto all'aumento delle bollette dove hanno vissuto le attività produttive, tra qualche settimana inizieranno anche le famiglie a viverle. Questo sarà un dramma e noi dobbiamo farci trovare pronti perché dobbiamo intervenire al loro sostegno. Dobbiamo farlo come Regione, ma lo deve fare in maniera particolare lo Stato. Noi già in passato siamo intervenuti come Regione rispetto alla gestione di alcune emergenze, mi riferisco all'emergenza Covid, distanziando 100 milioni di euro in favore delle famiglie e dei comuni. Quindi la Regione, anche in questa circostanza, dovrà fare la propria parte attraverso l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato regionale della famiglia, ma anche all'IRFIS, che è la nostra banca, che ha un ruolo determinante in tutto questo. Per tornare alla collaborazione che deve esserci con il Governo nazionale, quindi anche rispetto alle altre riforme da portare avanti, su cui lo Stato deve darci una mano, sono la riforma sui rifiuti che deve essere completata, con la nascita dei due termovalorizzatori che il Presidente del Governo aveva deciso di realizzare, e sui quali il Presidente Schifani si è espresso favorevolmente e intende portarla avanti. Ma c'è la riforma dei consorsi di bonifica, la riforma della dirigenza regionale che non può più attendere. Ecco, il lavoro da fare è tanto e molto di questo potrò anche viverlo direttamente in prima commissione. L'enfasi con cui l'onorevole Marco Intravaia ci racconta quello che c'è da fare, da cosa dipende? Non dipende soltanto dalla sua posizione politica, ma dipende anche dal fatto che veramente ci trovano di fronte a un parlamentare che ha un'esperienza, sa di cosa sta parlando, ha vissuto in primo piano accanto al Presidente Musumeci i problemi della Sicilia, e quindi arrivi oggi a fare delle proposte concrete. Ma a proposito di temi delicati, visto che c'è questo asse politico tra la Sicilia e Roma, uno dei temi più contestati dell'opposizione è quello dell'autonomia differenziata. Cioè la tesi dell'opposizione è, con il principio dell'autonomia differenziata, probabilmente verrà svilita l'autonomia della regione siciliana. Tu sarai pure in commissione di... Cioè questa materia anche qui vi passa sopra la testa, ma il tuo punto di vista, cioè secondo te può penalizzare veramente la Sicilia una riforma dell'autonomia differenziata per le regioni del nord, o forse è l'occasione per far diventare più moderna la nostra autonomia? Non credo che possa penalizzare la nostra regione, semmai io la vedo come un'opportunità davvero per valorizzare il nostro statuto speciale, parte del quale, se non quasi totalmente, non è mai stato applicato davvero, quindi può essere per noi davvero da stimolo, ecco, affinché si possa davvero applicare quello statuto che darebbe... Dobbiamo aumentare l'autonomia a un fatto concreto e non soltanto più. Esattamente, non solo sulla carta, ma dobbiamo renderlo concreto, ecco, dobbiamo attuarlo. Marco, ora ti ho dato l'onorevole, e ora ritorno a darti il Marco, perché vorrei gli ultimi quattro minuti di intervista un po' come dire parlare con l'uomo, più che col politico e col deputato, e soprattutto mi dispiace toccare sempre questo tema, io ricordo, per chi non avessi seguito la scorsa puntata, che il papà di Marco è un eroe del nostro paese, è una delle vittime in asseria, l'attentato in cui morirono i carabinieri impegnati nella missione antica a Babilonia. Mi viene un po' la pelle d'oca a farti questa domanda, ma non ti è venuto da piangere pensando a tuo papà, nel momento in cui ha giurato per l'ennesima volta fedeltà alla Repubblica, alla Regione Siciliana? Assolutamente sì, ho provato... Allora, io lo interrompo un attimo, ma ho visto gli occhi che sono diventati lucidi, perché ovviamente credo che sia un affetto, un amore... Beh, è inevitabile. Io, come ho avuto modo di raccontarti precedentemente, ho iniziato il mio impegno politico proprio perché avevo deciso di portare avanti un po' quello che aveva fatto mio padre. Il papà. Io credo che la nazione, il paese, possa essere servita non soltanto indossando una divisa, ma anche facendo altro. E io ho sempre inteso la politica come il miglior servizio che si potesse rendere al nostro paese. E con questo spirito ho iniziato a farlo. Quindi per me giurare da deputato regionale è stato davvero un grandissimo onore, un grande privilegio. e inevitabilmente il mio pensiero è andato a mio padre. Considerato che... Peraltro sono sbaglio. Le cose della vita davvero sono difficili da spiegare. Spesso io ho giurato alla vigilia del diciannovesimo anniversario della morte di mio padre. Quindi anche da questo punto di vista... Se il primo emotivo era molto denso. Una valenza simbolica molto forte per me. Guardavo la diretta e pensavo... E siccome guardavo i lanci di agenzia, mi sono ricordato appunto che era il giorno dell'anniversario di tuo papà, ho pensato, ma chissà cosa starà pensando Marco in questo momento, tra la grande emozione e il grande dolore e il rimpianto. La vita ogni tanto ci mette di fronte a questi sentimenti di grande gioia e di grande dolore. È così, è così, capita spesso, è capitato anche a me, però ripeto, continuerò a condurre e a portare avanti il mio impegno politico con lo stesso orgoglio con il quale l'ho iniziato. Forte degli insegnamenti di mio padre, fiducioso di poter fare bene per la nostra isola e per i nostri figli. E lo dico oggi da padre di due bambini. Ogni cosa che ciascuno di noi che ha un ruolo all'interno delle istituzioni fa, deve farla sempre con lungimiranza pensando alle nuove generazioni. Non all'immediato, ma alle generazioni. Non all'immediato. Un politico serio non può pensare... A una programmazione di basso profilo. A una programmazione di basso profilo e a raccogliere il frutto di questo impegno nell'immediatezza. Devi fare investimenti a lungo termine. Soltanto così noi questa terra riusciremo davvero a cambiarla. E da questo punto di vista un obiettivo strategico ce l'avranno gli investimenti rispetto alle nuove infrastrutture e alla riqualificazione delle esistenti. Io sono per esempio un grande sostenitore della realizzazione del ponte sullo stretto. Non ti ho letto sul pensiero ma ho capito dove stai andando. Non comprendo mai le polemiche di chi dice prima del ponte dovremmo fare altro. Ma probabilmente lo dovremmo fare contemporaneamente. Sì, bravissimo. Bisogna realizzare entrambe. Cioè il ponte non è alternativo e non esclude la realizzazione delle altre opere. Bisogna semplicemente lavorare sull'uno e sull'altro fronte. Sì, di ridare la regia perché il tempo a nostra disposizione è finito. Hai 15 secondi. Non ne sono neppure accorto. Vabbè, con te il tempo vola perché è bellissimo parlare con te, è molto piacevole. È una bellissima dialettica. Una battuta proprio in 10 secondi. Che legge ti piacerebbe che portarsi il tuo nome? Una legge. Su che settore? Ma sono tante le idee e gli obiettivi che mi sono dato. Guarda, io abbiamo parlato delle province ed è una delle cose alle quali sono molto legato perché le ho conosciute da amministratore locale e ne riconosco davvero l'importanza per il territorio. Quindi legge delle province che so essere condivisa con tantissimi altri colleghi. Ma poi anche una legge rispetto al sostegno alle famiglie, allo sport. Tutti argomenti su cui dall'altra parte della barricata, per tornare al termine che dicevi, ho potuto fare qualcosa. Oggi in prima persona da parlamentare certamente potrò incrementare il mio impegno. Perfetto. Io ringrazio Marco Ittravaglia per il tempo che ci hai dedicato. Con lui il tempo veramente vola. Ringrazio chi ci ha seguito e alla prossima puntata di Talk Sicilia.